ciao io sono jessica restichini ho aperto il canale youtube di che ti sei messo in tetta io sono pietro loschi sono un chirurgo plastico ricostruttivo del step abbiamo deciso di rispondere alle vostre domande si magari dire qualcosina che vi può essere utile per essere un po più informati sugli argomenti riguardo il seno e le malattie del seno quindi restate connesse pietro scusami quando succede che una protesi si rompe che cosa si fa allora intanto partiamo da come si fa a capire se si rompe come si fa a capire come si rompe veramente una cosa che diciamo praticamente a tutte le visite allora si rompe ma non cambia la forma la protesi no no per cui non è che il seno diventa piatto cambia forma per cui la si vede con l'ecografia un buon ecografista hai la pelle e il muscoletto la sua capsula e sotto è tutta protesi quindi lo si vede all'ecografia ma questa è anche una donna che fa un additivo lo si vede all'ecografia un buon ecografista scrive se non sanno protesi integra è questo che ci interessa poi se c'è qualche dubbio può essere utile la risonanza magnetica ok nel senso che la risonanza la mammografia no non è utile per la rottura ma l'ecografia e la risonanza magnetica possono essere utili ok quindi protesi rotta diagnosi di rottura della protese è un'urgenza no non è un'urgenza non c'è da andare in sala giorno dopo non c'è niente di problematico niente da stare tranquilli però che cosa succede che si fa una visita al chirurgo plastico e ci si organizza nel giro di qualche mese che possono essere tre quattro mesetti per di sostituire la protesi ok è un intervento difficile assolutamente no anzi può essere il momento per migliorare qualcosina della forma perché magari uno ha un po di indurimento intanto migliora lo spazio magari cambia la protesi quindi noi che cosa ci troviamo all'interno come chirurghi taglientino trovo la protesi ok tra l'altro le protesi sono di un gel coesivo quindi il gel rimane all'interno e non cambia la forma è il motivo per cui una donna spesso non se ne accorge perché la protesi rimane lì è ferma non cambia la dimensione neanche la forma del seno quindi quello che si fa tecnicamente si toglie la protesi rotta si lava bene all'interno che c'è la capsula quindi il silicone è rimasto lì non è dato da nessuna parte non va in giro per il corpo una donna che ce l'aveva rotta da otto anni qualche mese fa è un po tanto un pochino tra su dall'interno della capsula magari può arrivare ai primi linfonodi quindi viene scritto linfonodi con un pochino di materiale tipo silicone non vanno tolti comunque vanno lasciati lì perché funzionano però insomma se si viene tolta prima e mezzo e quindi quello che si fa è si sostituisce la protesi magari si fa qualche taglientino nella capsula e si mette una protesi nuova magari diversa magari più bella magari si migliora anche l'altro seno ok grazie grazie a voi